La giornata di attenzione al mondo femminile di ascolto, di avviamento al lavoro, grazie agli investimenti anche sul piano tecnologico e alle nuove misure di reclutamento e di arrullamento delle disponibilità per il lavoro speriamo di recuperare quello che è il gap più grosso sul piano dell'occupazione che vede la Sicilia tra le ultime regioni in questo Paese. Oggi riapriamo i termini di un progetto del Fondo Sociale Europeo un progetto che ci consente di investire 11 milioni di euro che vengono investiti perché il mondo femminile dagli anni della post-adolescenza dei 16 anni fino ai 56 anni, l'età della maturità possono fare attraverso questo progetto un percorso di formazione vero. Grazie a tutti! Grazie a tutti!